Prendersi cura di sé non è solo una questione di bellezza, è un dialogo silenzioso con la propria anima. Ogni volta che sfiori la tua pelle, ogni volta che le idrati, le dici ti vedo, ti sento e mi prendo cura di te. Non si tratta solo di eliminare le imperfezioni o di illuminare il colorito, è un momento tutto tuo in cui ti concedi il tempo di ascoltarti e di amarti. Ogni prodotto che scegli, ogni consistenza, ogni profumo è un invito a riconnetterti con chi sei davvero, a trasformare un semplice gesto quotidiano in un rituale che nutre, lenisce, rinnova. Perché non è solo la pelle che fiorisce, è la tua autostima, la tua forza interiore e la tua bellezza autentica. Prendersi cura di sé è un atto d'amore, concediti il meglio, dove la bellezza incontra l'anima.